no però guarda c'è veramente guarda mi fate veramente incazzare se vede bravo bravo vede non fu la p non fu la d no vabbè eh lo so però sotto torre no vabbè vabbè arriva lui e vai eh si questo stile è bassa eh si 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 attacca attacca oh dai ho fatto un po' di danni ahia fra mi sa che sono morto no ok sono mazza mi è venuta voglia di giocare in reglia bravo a vedere come si muore no non quito così la tua torre è stata distrutta fatti colpa del jungle la tua torre è stata distrutta il tuo inibitore è stato distrutto no bravo a lei ci stanno pushando la base io non ti ho ridi di me avrà pusho swain a fila di me sono entrato sono scappato è finito il gioco ah fra certo mi devono chiamare quello che schiva meglio le abilità cioè questo dia o si fanno schifo loro oppure so io fortissimo fra andiamo andiamoci a far drago che pensiamo che pensiamo che pensiamo niente zucca ci penso io andiamo a uccidere frasi spaziada che ora scrivi aspetta ho un po' ma fai scusa no ma io c'ho 8 morti in te c'ho 6 morti tu ne hai 8 e sono 14 e c'è 8 e 9 assist quindi avrà la partita ci penso io e non ho fatto in tempo se non l'avrei salvato ma se fallo ultima in serio d'oltre